In occasione della tradizionale Sagra della Castagna a Trecchina, doppio weekend di festeggiamenti a cavallo delle ultime due settimane di ottobre per l'edizione 2015. Inaugurata sabato 17 ottobre, la Sagra della Castagna quest'anno ha celebrato la sua 17esima edizione, promuovendo, sempre presso la piazza Giardino al centro della cittadina, non solo il frutto protagonista della festa ma svariate attività di diverso genere. Esposizione di stand enogastronomici e manufatti artigianali del territorio, attività ludiche per i più piccoli come raccogli le castagni, orienti ring e castagni per gli istituti scolastici di Mitrofi. Per i numerosi partecipanti all'evento, accorsi anche da fuori regione, caldarroste e pietanze di diverso genere alla castagna. Intrattenimento e animazioni per grandi e piccini fino alla giornata conclusiva di domenica 25 ottobre, con ressegne artistiche, raduno degli organetti, esibizioni di gruppi musicali e spettacoli di magia per i più piccoli. L'evento è stato organizzato dagli Amici della Castagna con il patrocino del Comune di Trecchina e di altri enti istituzionali.